Giardini pubblici di Crespano abbandonati a sporcizie e degrado a sollevare il caso una consigliera di opposizione di Pieve del Grappa. Noi come promesso siamo stati in municipio per chiedere spiegazioni e la sindaca Rampincia ha illustrato un piano di recupero dell'intera area già pronto per essere avviato. La sostituzione e la sistemazione dell'intera area ha compreso la putatura di alcuni alberi oltre al taglio di quelli che sono previsti nel piano regionale autorizzato. È proprio previsto un riordino anche con la sostituzione della pavimentazione in modo da creare un luogo più accogliente, il taglio di alcuni alberi perché si è bello il parco con le zone d'ombra però quando diventa troppo rischia di sembrare un bosco. Rispetto alla sporcizia, all'immondizia, alle carte per terra faccio un commento che di solito il grado di pulizia dà anche la dimensione della civiltà dei cittadini che frequentano i luoghi per cui sarebbe bene che ci fosse più attenzione da parte di tutti nel rispetto delle cose di tutti, in questo caso delle giostrine e laddove, per esempio io personalmente anche prima di fare il sindaco se vedevo una carta per terra ma ancora adesso lo faccio, la raccolgo, sicuramente non faccio la foto per cui se i cittadini sono più educati e invece di buttare a terra o lasciare disordine lasciano i luoghi come li trovano anche i nostri operai andranno meglio. Quando possiamo tornare per vedere i lavori conclusi? Io nel giro di un metro e 40 giorni stanno facendo le determine di incarico per gli acquisti per cui penso sia 40 giorni massimo sia operativo. Noi neanche a dirlo tra 40 giorni torneremo per verificare i lavori.